beh comincia a vedersi no? guarda come stacca adesso le rocce in primo piano come staccano sono troppo luminose se guardi però lo correggerai con delle velature perché lo vedi che nella zona luminosa qui qui c'è nel modello c'è dell'azzurro vedi che smorsa tutto insomma te la stai cavando basta smettere di dare i nomi a quello che vedi e mettere solo le macchiette che servono devi allontanare la distanza cioè questo lo devi allontanare è troppo no deve essere più smorto quindi dovrai dargli dei grigi più tenui quel buco quella macchia la devi fare molto più scura qui qui devi fare una macchia molto più scura ammazza ti sta imparando di pinge bravo poi l'albero bisognerà lavorarci molto da un bellissimo effetto quel il passaggio quello sulla no a parte quello quello è un bello effetto no ma guarda l'altro il buco la porta quello lì guarda che bello effetto c'è uno stacco netto ottimo bravo bravo complimenti bravo 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 Grazie.